Sarà un mese di marzo diviso tra campionato e Coppa Italia. Si completa questa sera il girone di andata della Molisana Magnolia Basket Campo Basso che alle 20.30 sarà ospite del Sesto San Giovanni. Match rinviato lo scorso 23 dicembre a poche ore dalla palla 2 con l'orosso blu già in Lombardia. Gara rinviata per positività nel gruppo squadra del Sesto. In palio non solo i due punti per superare l'avversaria di giornata. Le due formazioni sono appagliate a quota 18 ma anche per definire il piazzamento della Final 8 di Coppa Italia in programma dal 23 al 27 marzo. Per la formazione vincitrice infatti ci sarà il sesto posto finale sinonimo di sfida e quartico la Virtus Bologna. Diversamente l'abbinamento sarebbe con Schio sicura prima per le rosso blu o Venezia certa seconda per le Lombarde. Ma tornando alla gara di domenica vinta contro il Ragusa sentiamo Trimboli. Stefania Trimboli allora è arrivato questo successo di tre contro una grande squadra come Ragusa. È stata davvero una partita emozionante. Sì partita emozionantissima e ci voleva un riscatto. Con l'arrivo di Alissa fortunatamente siamo riuscite a ritrovare un po' di serenità dopo l'infortunio di Nina della scorsa partita e fortunatamente è andata bene oggi. Oggi brave tutte però quando Park si inizia a segnare e fare 39, dicasi 39, è tutto più semplice. È tutto più semplice perché le abbiamo dato fiducia e abbiamo fatto bene. Oggi 39 punti era quasi immarcabile. Qualcosa l'ha sbagliato e umana ma 39 punti sicuramente fanno sorridere. È stata una partita neanche semplice perché a un certo punto tutte le lunghe erano fuori per falli. Poi la grey è uscita per 5 falli contro Cugliere che insomma è un avversario che si vede che parla un'altra lingua. Sì sì Cugliere sicuramente ha un fisico e un talento che in poche hanno. Fortunatamente abbiamo trovato il gioco di squadra e siamo riuscite a limitare un po' i danni fatti dai falli. Senti ora si guarda un po' con più serenità perché è stato un gennaio ma è un febbraio. Sono stati due mesi davvero difficili. Sì sono stati due mesi difficili dati sia dal covid che dagli infortuni. Avevamo perso il ritmo partita e fortunatamente oggi siamo riuscite a portare a casa questa partita. Abbiamo delle partite impegnative prossimamente ma daremo tutto.